Voglio ringraziare la Fiera di Cremona per darci questa opportunità come Yamaha Music Europe GmbH per quello che riguarda la filiale italiana. Voglio ringraziarne perché attraverso il Salone di Mondo Musica e Cremona Pianoforte abbiamo oggi l'opportunità di presentare il progetto Musica Scuola. Il progetto Musica Scuola è un progetto dedicato alle scuole primarie che utilizza un metodo didattico Yamaha che è stato ampiamente testato e che oggi è in vigore nel network delle scuole Yamaha in tutto il mondo. Questo metodo didattico porta a suonare i bambini dai 6 ai 10 anni in un'orchestra, un'orchestra di tastiere. Quest'orchestra e questo metodo aiutano i bambini a crescere a livello personale, a livello mentale così come diverse ricerche americane e europee dimostrano. Il nostro scopo è quello di portare i bambini italiani a suonare uno strumento musicale. Quindi spero che questo progetto che verrà oggi presentato qui alla fiera possa attirare insegnanti, presidi e tutte quelle personalità che possono essere incentivate ad aiutare lo sviluppo della pratica musicale in Italia, partendo proprio dalle scuole primarie e dai bambini.